Il turno infrasettimanale regala alla Vispesaro l'ottava vittoria della sua stagione e un settimo posto in classifica sempre più robusto. Al Benelli con la Lucchese va in scena uno dei migliori primi tempi della stagione bianco-rossa deciso dalle golle di due ultime arrivati dal calciomercato. Ferrini che apre le marcature ribadendo in rete un palo di tonso e a Quadro che risponde al momentaneo pari di Belloni con un colpo di testa che correggia in rete una precedente zuccata dello stesso Ferrini. Nel secondo tempo la Lucchese rimane in dieci uomini ma staziona nella metà campo di una Vis che resiste per la soddisfazione del suo allenatore. Posso dire che a parte gli ultimi dieci minuti finali la squadra mi è piaciuta tantissimo e faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita fantastica. Era comunque difficile ricaricare le energie, ve l'ho detto questa volta che erano quelle fisiche perché avevamo preso a fermo tante botte, avevamo speso tanto cercando di nel secondo tempo vincere le transizioni e proporre qualcosa e quindi oggi ripartire ancora con la stessa testa di andare aggredire alta la Lucchese, di non farli giocare. Abbiamo preparato un'uscita simmetrica, astrologo quarto, tre giocatori offensivi, stiamo provando con il rientro di diversi giocatori a fare qualcosa di diverso. Sono contento e come sempre dico bisogna valorizzare quello che di buono viene fatto ma bisogna lavorare sulle criticità. Con 35 punti in classifica a febbraio e un più 11 sui play-out, la classifica della Vis non era mai stata così bella in questi quattro anni di Serie C. La classifica si guarda alla prima domenica di marzo, questo mi hanno insegnato e mi sono sempre trovato bene. Mercoledì di campionato anche per l'Ital Service che si conferma squadra dura a morire anche quando le cose sembrano non girare a favore. A Napoli i campani scappano 2-0 ma nel secondo tempo Canal rianima i pesaresi che restano sotto fino a 10 secondi dalla fine quando Bolo regala un preziosissimo 2-2 al fotofinish. Per l'Ital Service la vetta resta così lontana, 4 punti, complice il concomitante pari della capolista Simbio Spetrarca sul parquet della Camedosson. Continua però il febbraio senza sosta dell'Ital Service, sabato alle 21, altro match al Palafiera con Matera.